L'ha fatto di nuovo L'ha fatto di nuovo E' la cosa più grave Che la cosa non mi sorprende E sapete perché non sono sorpreso? Perché queste persone Non hanno altre frecce al loro arco Non hanno la possibilità Di far parlare di loro Magari facendo un'analisi dettagliata Un'analisi giusta Sul mondo del calcio Devono sparare per forza quelle frasi shock Quelle frasi da tiktok Quelle frasi che devono diventare virali Quelle frasi forti Che vengono riportate da tutti i giornali Perché ovviamente fanno click Perché uno vuole andare a insultare quello Ed è diventato questo il web nel 2024 Il calcio sul web è questo Una gara a chi spara La stronzata più grossa E Antonio Cassano Credo sia in questo momento Il più grande rappresentante Del web calcistico sul calcio 2024 Cioè chi spara La minchiata più grossa Anche se sai che in quel momento Magari non la sta pensando Perché ormai è diventato questo Cercare la frasetta Che diventa virale su tiktok E non fa niente Che sotto mille commenti 990 ti stiano insultando Sei comunque uno popolare Sei comunque uno conosciuto A te va bene comunque Fai questo giochetto A volte li vedo proprio Che si sforzano a dire cose Che non pensano Pur di dire Quella stronzata Clamorosa Che in quel momento Ti fanno anche quel mezzo sorrisetto Perché ormai funziona così Le interazioni Servono commenti Serve le persone che ti insultano TikTok è un social Che funziona così E quello ha portato Tutti gli influencer A essere così E Antonio Cassano Ormai è un influencer Antonio Cassano Fa quello di mestiere Non fa altro Cioè Antonio Cassano È un ex calciatore Grandissimo talento Tutto quello che volete voi Ma in questo momento Antonio Cassano Fa l'influencer È da buon influencer Appena c'è un palco Appena c'è la possibilità Una vetrina Per dire qualcosa Spara la frase Più grossa possibile Perché è questo Che mi fa incazzare Perché Antonio Cassano È uno che ha giocato a calcio È uno che capisce di calcio Perché se sei arrivato A quei livelli Sei stato in quegli ambienti Hai giocato con gente Come Totti Per forza Puoi saper analizzare qualcosa Ma invece Non ti interessa a te Perché se tu analizzi E stiamo parlando Di quello che ha detto Su Raffa Leao Raffa Leao In maniera corretta Quelle dichiarazioni di Cassano Non fanno il giro Di tutti i giornali Il giorno dopo Tu non apri Instagram E trovi dieci pagine sportive Che riportano le parole di Cassano Se Cassano dice la verità Su Raffa Leao Perché Raffa Leao Non è incriticabile Non è che sei andato A prendere una persona Incriticabile Raffa Leao Ha voglia criticarlo E io sono milanista E sono il primo Che può dirti Milioni di cose Da criticare A Raffa Leao Cioè Sei andato a prendere Proprio un giocatore Che è anche facilmente Criticabile Ma tu no Tu non puoi criticarlo In maniera intelligente Devi andare per forza Oltre Devi per forza Superare il limite Perché di Leao Ci sarebbero milioni Di cose da dire Il fatto che dice Sono mesi E mesi che non segna E poi si crede un fenomeno Anche a me Quando ha fatto Quell'esultanza così Dopo 5 mesi Che non segna Ha dato fastidio E mi viene da dire La stessa cosa Ma che cazzo Ti credi di essere Che non segni Manco con le mani E poi fai un gol E fai così Su quello Puoi avere ragione Criticalo Su quello che è giusto Criticalo Sul fatto che sia Un giocatore discontinuo Criticalo Su questo Ma non andare A dire Un giocatore normale Ha soltanto Fisico Perché devi andare oltre Andare A dire Che il calciatore Non è buono Quando lo sai Che è buono Discontimo Ma è buono No E lì capito Perché i giornali Riportano la cosa Perché Cassano Ha detto Che Leao Un giocatore discontinuo No Perché lo pensano tutti Che Leao sia un giocatore discontinuo Adesso è un periodo In cui sta giocando bene Perché ha voglia Magari tra due mesi Non gli andrà più E giocherà così A trotterello I tifosi del Milan Sanno bene Come criticare Leao Ma nessuno Può mettere in dubbio Il giocatore E questo è il problema Non devi mettere in discussione Il calciatore Puoi mettere in discussione Le sue abilità Magari mentali Le sue abilità Tattiche Perché non aiuta la squadra Non puoi mettere in discussione Il giocatore Se tu lo fai Perché sei in mala fede Perché cerchi in tutti i modi Di far parlare di te E questa è la cosa Che mi dà più fastidio Perché Cassano Sarebbe in grado Come un italiano tutto suo Perché non è andato a scuola Non so che cosa faceva Penso Girava per Bari Vecchia A scippare vecchiette Sto scherzando Sto scherzando ovviamente Però non so che cosa faceva Ma sicuramente Non andava a scuola Questa è una roba certa Quindi magari Non lo saprà dire In una maniera Edulcorata Però sicuramente È in grado Di analizzare Leao Come un grande calciatore Che discutiamo Ma a lui non gli interessa Fare quella critica A lui gli interessa Finire sulla pagina Dei giornali A lui gli interessa Dire Holland non è un grande giocatore Perché sa Che quella dichiarazione Farà il giro dei giornali E anche se tutti Pensano che lui Non capisce un cazzo Lui lo vedi lì Bello tranquillo Perché sta facendo Parlare di sé E questa è una roba Che mi dà fastidio E prendo Cassano Come esempio Ma per prendere Tutti gli altri Influencer come lui Perché ormai È diventato questo Li vedi Che dicono le stronzate E ti fanno Quel mezzo sorrisetto A pigliarti per il culo Quando ho cominciato io A fare il web Se dicevi Una stronzata La gente ti abbandonava Dovevi essere credibile Cioè Credibilità Era la parola principale Poi magari Uno può essere Diventato famoso Perché fa gli sfoghi L'altro può essere Diventato famoso Perché fa gli analisi Tattiche Ognuno poi Ha avuto il suo No? Però quelli che sparavano Le stronzate Come sbagliavi mezza cosa La gente ti massacrava Adesso invece È una gara A chi dice Che più le puttanate Fanno i format Nel paragonare I giocatori apposta Per farsi insultare Nei commenti Quando la gente Non capisce Che è fatta apposta Quella roba Paragonare Cacà Ildiz Mi sembra Cacà È fatta apposta Per creare Interazioni Commenti Cioè ridono Mentre dicono Quelle cose E la gente ancora Non capisce Ormai il web Nel 2024 Parlando di calcio È diventato questo Far indignare la gente Per creare interazioni Creare interazioni E creare interazioni Questa cosa qua L'ha creata TikTok Questa roba Di far diventare L'influenza Degli incoglioniti L'ha diventata L'ha fatta diventare TikTok Perché ormai è così Cioè Non interessa più Essere riconosciuto Per dire Oh guarda quello Ha un'idea calcistica Magari anche diversa Dalla mia Però Ha un suo credo Va bene Lo rispetto Magari io non sono d'accordo Oppure Ti stimo Mi piace come pensi I tuoi pensieri Sul calcio Mi piacciono E invece no Adesso Ah guarda quel coglione Ah guarda quel coglione Cioè ci sono dei personaggi Che ripeto Non voglio fare i nomi Perché a me Di Issing Non mi interessa farlo Ma mi danno veramente Il fastidio guardarli Perché li vedi Che ti stanno pigliando Per il culo Palesemente E la gente Non se ne accorge Non commentate più Quella gente Quando paragonano Che cazzo ne so Krunic A Maradona Ma Non commentate più Perché è palese Che stanno cercando Il vostro commento La vostra interazione La vostra condivisione Mentre pensate di pigliarli Per il culo Quelli stanno pigliando Per il culo voi E Antonio Castano È l'emblema Di tutto ciò È uno che va Davanti alla televisione E deve sparare La stronzata più grande Perché ha preso L'obiettivo Leao E allora deve fare Sempre l'interview Allora gli hanno detto Adesso cosa dici Sul Leao Visto che No io non cambio Leao È soltanto uno che corre Gioca nel campionato Serie A Che è una merda Come cazzo fa A dire che il campionato È una merda Ma ti sei visti Di altri campionati Ma hai visto che Non esiste la tattica Non esiste nulla Cioè la Premier League Pensi che per un attaccante Sia più difficile Della Serie A Ma stai scherzando Allora se mi parli Di spettacolo Ti posso dire Premier League 8 km Avanti alla Serie A Non c'è manco Da discuterne Ma se tu mi parli Di difficoltà Ma non esiste Cioè la Premier League La squadra più piccola Ti lascia gli spazi Che può andare A campo aperto Leao In Premier League Farebbe il triplo Dei gol Ma che cazzo di discorso Vai In Italia è tutto tattico Squadre che si chiudono Qua anche le big Si chiudono in difesa Anche le big Le vedi con 11 giocatori Detro la metà campo La Premier League Non sanno manco Cosa vuol dire tattica Loro giocano Perché quella è bella Perché quella me la guardo Perché mi diverte La Serie A mi annoia Io sono anti Serie A Mi annoia me la Serie A Io amo la Premier League Ma non mi puoi dire Che la Premier League È più difficile La Serie A Ma non esiste proprio Cioè in Premier League I difensori Sono centrocampisti Che devono impostare Non ci sono i difensori Che ti martellano Come in Serie A Che magari C'hanno dei nomi di merda Che non li vedresti Neanche a giocare Nel campetto sotto casa Ma sono comunque Tatticamente più preparati Gli allenatori di Serie A Sono più preparati Cioè in Premier League Regna lo spettacolo Come cazzo fai A farmi sto paragone Uno che ha giocato a calcio E ne capisce di calcio Quindi Loro dicono queste cose Giusto per Far parlare Quindi cercate di non stare dietro A questa gente Mettetela nell'oblio Lasciatela nascosta Fate passare sta moda Chi spara la stronzata Più grossa C'ha un seguito migliore Perché funziona così C'è gente Che da quando è nata Sul web Soltanto per sparare stronzate E non stronzate Come magari Le posso sparare io Che uno può dire Ah magari tu in quel momento Ok è vero Ma l'ho sparata in buona fede L'ho sparata perché magari In quel momento Credevo quella cosa No Ho sparato la stronzata Ma poi me ne sono pentito Ma non Che ho sparato la stronzata Ho visto che Ha avuto un riscontro incredibile E poi la volta dopo Ne sparo una ancora più grossa Facendola apposta E questa è la cosa grave E Cassano è l'emblema Cassano Taci 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 O inizia a commentare il calcio In maniera seria e decente Perché sei un ex calciatore E dovresti essere ancora più serio Dell'influencer Sei diventato più un mercenario Dell'influencer Ma fai proprio cagare Come Proprio come concetto di persona Che vuole analizzare il calcio Leao Giocatore criticabilissimo Su milioni di aspetti Lui cosa fa? Lo va a criticare Sul fatto di dire No vabbè Non è niente di granché Ha soltanto un grande fisico C'è un giocatore che ha tecnica Dribbling Cioè ha tutto Magari gli manca la freddezza Davanti al portiere Sì è vero Migliorerà in quello Sta migliorando già È un giocatore discontinuo Sì criticalo su quello Io spero che il discorso sia chiaro E spero che molti abbiano capito Quello che volevo dire in questo video Perché magari molti si sono persi Durante il video Ma fidatevi che il concetto è semplice Gente come Cassano Gente come l'influencer di adesso Che giocano a chi la spara più grossa Per creare interazioni Devono sparire Perché annullano proprio La credibilità delle persone sul web Che parlano di calcio Grazie mille